Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Voice Senior, terzo atto. Si lavora alla nuova edizione del programma condotto da Antonella Clerici e si vocifera già di una clamorosa novità. Chi riguarda questa notizia sensazionale? Con Amadeus già a lavoro per il suo Sanremo numero 4, con Millie Carlucci alla ricerca di nuovi danzatori vipper ballando con le stelle, con Carlo Conti che sta allestendo una superlista di concorrenti per il suo tale e quale show, pensate davvero che Antonella Clerici si stia tranquillamente girando i pollici rilassandosi in vacanza? Assolutamente no. Infatti anche lei è a lavoro per la terza edizione del suo programma dedicato alla musica. Voice Senior, atto terzo, si sta preparando e le voci che circolano segnalano già cambiamenti rilevanti. Uno addirittura clamoroso. Ma andiamo con ordine. Tutto parte da un'indiscrezione fatta filtrare da un noto settimanale, che ha come fonte diretta niente meno che la RAE stessa. Ma chi riguarda precisamente questa indiscrezione e chi l'ha lanciata? Voice Senior, aria di cambiamento. Vanno, vengono, ritornano. I personaggi VIP dei programmi di maggior successo sono come le nuvole descritte da Fabrizio De Andrini. Un anno sono ospiti fissi all'interno di un programma, l'anno dopo sono presenti in qualità di giudici in un altro. Salvo poi ritornare, l'anno ancora dopo, lì dove erano già stati. In fondo è quello che sta emergendo dalle voci di corridoio che provengono da Viale Mazzini in riferimento al programma Voice Senior. Come anticipato in precedenza, tutto è partito da una clamorosa indiscrezione fornita da un noto settimanale, Nuovo TV. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha parlato chiaramente di un clamoroso ritorno all'interno dello show musicale condotto splendidamente da due stagioni da Antonella Clerici. Di quale ritorno si sta parlando? E se qualcuno arriva, c'è qualcun altro che parte? Aria di ritorno al passato.La stagione 2022 di Voice Senior si potrebbe presentare con una clamorosa novità ai nastri di partenza. Questa riguarderebbe espressamente la squadra dei coach. Tre di loro saranno sicuramente confermati, ovvero Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio. E il quarto posto occupato l'anno scorso da Orietta Berti? Il clamoroso ritorno riguarderebbe proprio la poltrona rossa del quarto coach. Al posto infatti dell'usignolo di Cavriago, ritornerebbero a vele spiegate Albano e Jasmine Carrisi. La notizia, qualora venisse confermata, sarebbe sicuramente clamorosa, poiché si tratterebbe di un ritorno della coppia Carrisi che era stata presente nella prima edizione dello show, salvo poi essere sostituita, non senza velate polemiche, proprio da Orietta Berti. Così si ritornerebbe indietro di due anni, con la medesima squadra di coach. I numerosi impegni professionali di Orietta Berti sarebbero alla base della decisione degli autori del programma di richiamare il cantante di Celino San Marco insieme a sua figlia Jasmine, avuta da Loredana Leciso. Neanche il tempo di iniziare a programmare la nuova edizione che Voice Senior ci regala già la prima, grande emozione. E siamo soltanto a giugno. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao. Ciao.